Bakusan noi dobbiamo essere grati ai croati noi maschietti perché nella prima metà del seicente sono finiti in Francia e hanno esportato loro i croati hanno esportato la cravatta croati cravatta non lo sanno in tanti per venire lì noi uomini dobbiamo essere grati ai croati ma alcuni di noi più grati degli altri sono quelli che se nascondono dietro la cravatta quelli che se la mettono anche per andare a letto la sera, quelli che ci fanno anche la doccia con la cravatta, che si nascondono dietro la cravatta e non sanno nulla però li vedi sempre con sto cravattone allora noi dovremmo essere grati a quelli che vengono dalla Croazia ma c'è qualcuno che dovrebbe addirittura fare il pellegrinaggio in Croazia ma cos'è grazie grazie grazie